RG Spettacoli con telefono 348 26 16 163 presenta E ci saranno tanti sorrisi per il grande evento di domenica 16 ottobre presso il Circolo Guerzoni in via Genova 1 a Carpi in provincia di Modena per il debutto della nuova formazione di Davide Montali vi aspettiamo numerosi per informazioni e per notazioni contattate il signor Renzo al 346 222 7878 grande evento domenica 16 ottobre presso il Circolo Guerzoni in via Genova 1 a Carpi in provincia di Modena per il debutto della nuova formazione di Davide Montali